Salve amici nel centro mezzo italiano, pioggia in arrivo su alcune regioni nel corso del fine settimana. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 9 ottobre. Molte nuvole al mattino al nord con piogge d'acquazzoni su Piemonte, Liguria e Lombardia e più asciutta altrove con maggiori spazi di sereno al centro food. Al pomeriggio ancora fenomeni sul nord ovest ma precipitazioni in arrivo anche su Sardegna e Sicilia e variabilità asciutta altrove. In serata è notata possibili piogge sul nord ovest, coste sul medio versante tirrenico e isole maggiori e anche intense sulla Sicilia. Temperature minime in aumento al nord e in lieve calo altrove, massime stazionarie o in generale diminuzione. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.